In questo momento, in un momento in cui il nostro Paese si dovrebbe interrogare di che cos'è il sistema di accoglienza dei profughi e quindi dovrebbe dare risposte importanti ai territori, alle associazioni che sono impegnate, ma soprattutto agli uomini, alle donne e ai minori che arrivano nel nostro Paese e che continuano a chiederci aiuto. Grazie. Ringrazio il collega Sibiglia, prego. Grazie Presidente. Ogni anno, quando comincio la scuola, cominciano sempre le stesse polemiche. I libri costano troppo, i libri pesano troppo, devo ricomprare dei libri che ho comprato l'anno prima per il figlio più grande e quello più piccolo non li può utilizzare. Allora, di questi problemi, chiaramente sono tutte critiche giuste e sacrosante, di questi problemi sembra che nessuno se ne faccia carico, ma in realtà non è così, perché il Movimento 5 Stelle nel 2013, all'interno del decreto Carrozza, aveva fatto approvare un emendamento a prima firma Luigi Gallo che dava il via a partire per la sperimentazione, quindi l'attuazione, dei libri digitali. Libri digitali che potevano essere messi a disposizione gratuitamente per le scolaresche e quindi avere un metodo di studio innovativo. Si risparmiano 530 euro per ogni studente ogni anno e non è possibile che una legge approvata dallo Stato non venga attuata. Quindi noi chiaramente siamo qui ancora a ribadire che questo deve essere fatto e non ci spieghiamo come sia possibile che ogni volta si perde l'occasione per fare una cosa sacrosanta in questo Paese. Grazie. Grazie Presidente. Intervengo per sollecitare un'interrogazione dell'atto di sindicato espettivo numero 409674 presentato al Ministero della Giustizia e sottoscritto anche dalla collega Nesci, dal collega Bernini e dal collega Duva in cui descrivo la storia dell'imprenditore vibonese Salvatore Barbagallo che otto anni fa denunciò il clan dei Mancuso e che è stato letteralmente abbandonato dallo Stato. La storia di Barbagallo non è diversa da quella di altri imprenditori che denunciano il racket e che incontrano innumerevoli difficoltà per accedere al fondo di garanzia il cui funzionamento andrebbe perfezionato. Il Governo deve garantire ai cittadini calabresi, vittime del racket, un servizio giudiziario accettabile. A distanza di otto anni le persone denunciate da Barbagallo sono ancora a piede libero e non è neanche iniziato il procedimento giudiziario che possa accertare i fatti denunciati. In una terra come la Calabria che soffre la presenza della mafia più potente d'Europa non si possono abbandonare i cittadini che denunciano attendendo tempi biblici della giustizia. La storia di Barbagallo è divenuta un caso mediatico di interesse nazionale ma ci sono tanti altri calabresi che sentono lo Stato lontano e che non hanno il coraggio di denunciare. Lo strapotere dell'Andrangheta è dovuto all'omertà che si combatte concedendo ai cittadini i necessari strumenti per poter denunciare sentendosi tutelati. Grazie.